Il genere è una delle dimensioni più importanti in cui si articolano identità e soggettività contemporanee. Questa rilevanza si riflette nella visibilità del tema nell'arena pubblica e politica in cui i media giocano un ruolo centrale. Le piattaforme digitali in particolare rappresentano luoghi ideali per la valorizzazione delle diversità e lo sviluppo di strategie di contrasto a segregazione, hate speech o violenza basati sul genere. Per rispondere a queste sfide e costruire immaginari mediali gender sensitive occorrono competenze specifiche capaci di dar vita rappresentazioni equilibrate e inclusive. Il corso di laurea magistrale in gender studies, culture e politiche per i media e la comunicazione rappresenta una novità nel panorama italiano. Promosso dai dipartimenti di comunicazione, ricerca sociale, psicologia, lettere e culture moderne, il corso integra conoscenze sul genere e competenze comunicative per formare professionisti e professioniste capaci di promuovere rappresentazioni e narrazioni inclusive e non discriminatorie. I laureati e le laureate saranno in grado di operare nelle industrie mediali e culturali, in enti pubblici e organizzazioni private, in qualità di giornalisti, social media manager, copywriter, addetti alle pubbliche relazioni, addetti stampa o designer di contenuti e servizi multimediali. Nuove narrazioni mediali per nuovi immaginari di genere. Grazie.